È la settimana più merdosa dopo l'11 settembre. Ma che vuoi farci? È la vita. Sopravviveremo. E lo dico perché lo so. Di periodi brutti ne sto passando anche troppi da un po' di tempo. Ma un periodaccio come questo, a mio modesto parere, come minimo è da Guinness dei primati. Parlo troppo, secondo te. Parlo troppo, lo so. Comunque vedrai le cose fra te e... Neanche te lo chiedo che cosa è successo. Non mi riguarda, giusto? Non mi mischierò nei vostri problemi. E comunque voglio dirti una cosa, ok? Sai, è una ritirata strategica. Una cosa momentanea. E poi... Sai, la lontananza aggiusta tutto. Vedrai. Ma sappi che io faccio il tifo per te. No, non devi sollevare pesi. Faccio io. Ce la faccio. Lascia a me. Cazzo. Che c'è qui dentro, mattoni? Mezzo milione in contanti. Questa è buona. Lascia, faccio io.